Dal 27 dicembre è pubblicato il bando per assumere ben 200 nuovi agenti per la polizia municipale da qui ai prossimi 18 mesi. Il bando è riservato a tutte le giovani e giovani che abbiano i requisiti richiesti e abbiano meno di 33 anni. Una grande opportunità per dare occupazione alle nuove generazioni e un impegno serio per la sicurezza urbana della nostra città e per una migliore gestione della mobilità e della viabilità a Firenze. Un impegno mantenuto tra i punti del piano per la sicurezza stradale, la sicurezza urbana e il traffico a Firenze.